Buongiorno a tutti, questa è la seconda giornata dei lavori del sinodo delle chiese metodiste valdesi nato a Torrepellice, si è parlato questa mattina di ecumenismo nell'aula sinodale ma prima di passare al tema di questa conferenza stampa che appunto è ecumenismo magari vista ad ampio raggio, volevo ricordare rapidamente la serata di ieri sera che è stata una bella serata particolare in un tempio gremito di Torrepellice dove la serata organizzata dalla tavola valdese ha ricevuto il ministro Andrea Riccardi per l'integrazione e la cooperazione allo sviluppo. Andrea Riccardi ha lanciato alcune importanti visioni di un modello di società che insomma è interessante rapidamente riprendere, in particolare ha agganciato la questione dello sviluppo e della crescita della ripresa economica alla presenza degli immigrati nel nostro paese, insomma l'idea che non si può prescindere dalla loro partecipazione a questa ripresa per lo sviluppo in Italia. Detto questo passiamo adesso all'altro tema l'ecumenismo per i valdesi e i metodisti è un tema molto ampio che riguarda non soltanto il rapporto con la Chiesa Cattolica come si potrebbe pensare, ma riguarda i rapporti con le Chiese federate che sono le Chiese raccolte nella Federazione delle Chiese Evangeliche quindi parliamo di ovviamente valdesi e i metodisti ma anche battisti, luterani, esercito della salvezza e a questo tavolo abbiamo la vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche che è Letizia Tomassone e che quindi ci darà uno spaccato su questo tipo di dialogo tra appunto valdesi e i metodisti e il mondo federato non solo, ma poi parleremo ovviamente anche, amplieremo al diago interreligioso invece chiaramente c'è tutti i dialoghi che si fanno con le altre Chiese evangeliche che non sono parte del mondo federato per cui parliamo della Federazione delle Chiese Pentecostali ma anche con gli Evangelicali dell'Alleanza Evangelica Italiana ma anche dell'Assemblea di Dio per esempio e poi c'è la Chiesa Cattolica, le Chiese Ortodosse insomma tutto il panorama delle varie componenti del mondo cristiano in Italia per parlare di questo sarà interessante sentire l'opinione di Maria Anita Montresor che è la Presidente nuova, appena eletta Presidente del SAE il Segretariato Attività Ecumeniche che ha avuto quest'estate la sua sessione di formazione e invece per quanto riguarda le questioni di tipo più teologiche e anche più diciamo internazionali abbiamo invece il Professor Fuglio Ferrario teologo valdese della Facoltà Valdese di Teologia di Roma che sta preparando la prossima Assemblea delle Chiese Protestanti della comunione delle Chiese Protestanti in Europa che si svolgerà a Firenze a fine settembre quindi sarà interessante anche avere il suo contributo cominciamo da Letizia Tomassone qual è il ruolo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sul fronte del dialogo sia ecumenico che interreligioso? Allora direi che intanto sul fronte del dialogo ecumenico c'è la federazione e in fondo un cammino che si fa passo passo tra le comunità evangeliche che si riconoscono intorno a un'identità protestante in Italia ed è quindi un cammino che si fa proprio nella quotidianità sia nello sviluppo di progetti naturalmente progetti rivolti alla società progetti di rielaborazione della nostra identità progetti di evangelizzazione nei confronti dei piccoli e delle piccole cioè tutto il lavoro fatto con i bambini e le bambine ci sono tanti progetti che fanno parte della quotidianità delle chiese protestanti e su cui in realtà ci ritroviamo insieme lavoriamo insieme e non si può dire questo appartiene solo ai valdesi o solo ai luterani perché appunto c'è un macinare tante cose insieme esiste però anche un nostro presentarci di fronte allo Stato e penso alla Commissione per le relazioni con lo Stato la Commissione Evangelica che raccoglie anche altre chiese non federate e qui si lavora sui temi della libertà religiosa in questo paese si lavora su alcuni di quei temi che riguardano la laicità e naturalmente per esempio tutto il lavoro che riguarda le intese o comunque il riconoscimento delle comunità religiose in questo Stato e se posso già dire anche qualcosa rispetto al dialogo interreligioso nessuna chiesa delega in qualche modo solo alla federazione i propri rapporti con il mondo ebraico, il mondo musulmano, il mondo buddista però certamente la federazione delle chiese evangeliche offre dei materiali offre dei canali, offre delle opportunità di dialogo quindi per esempio sul tema dei rapporti con l'Islam in Italia ci sono dei testi elaborati attraverso le commissioni di studio della federazione degli incontri, dei percorsi anche proposti alle chiese in modo che ci si possa fare una mente comune ieri sera nell'incontro con il ministro Riccardi è venuto fuori ad un certo punto questa preoccupazione questo fantasma della paura dell'invasione dell'Islam in Italia e giustamente il ministro ma anche le altre voci che hanno parlato hanno detto noi dobbiamo prenderci la responsabilità del modo in cui parliamo degli altri e di noi stessi c'è un peso delle parole che usiamo ecco la federazione lavora su questo e per esempio di fronte a un Islam che in Italia cerca la propria identità cerca di darsi delle linee di riflessione per esempio penso alla riflessione delle donne sulla loro libertà e autorità all'interno del mondo musulmano italiano anche noi come protestanti e come italiani protestanti in qualche modo dobbiamo pensare come stiamo in dialogo con questi altri cittadini con queste altre presenze che stanno nella nostra società cioè la trasformazione, l'integrazione, anche il dialogo interreligioso non è mai a una sola direzione non si tratta solo di conoscere l'altro ma di rimando di conoscere noi stessi e di imparare qualcosa sulla nostra libertà ascoltando come gli altri fanno i loro cammini di libertà come gli altri trattano i temi dei diritti, della giustizia, del rapporto con Dio dell'amore che è al centro del nostro rapporto con Dio grazie dunque chiederei a Maria Anita Montresor lei è cattolica, è la nuova presidente del SAE quest'estate il SAE nella sua sessione di formazione estiva ha parlato di giustizia etica e sociale questo avviene con persone che seguono da tempo questa riflessione portata avanti da SAE che provengono dal mondo evangelico, cattolico, ortodosso ma anche dal mondo islamico ed ebraico se ci può spiegare qualcosa in più su questo sì ecco il mondo ebraico è una presenza diciamo costante fin dall'inizio nel SAE il SAE appunto è movimento di dialogo tra le chiese cristiane ma a partire dal dialogo ebraico cristiano perché si riconosce proprio nella divisione tra chiesa e sinagoga la prima grossa divisione quindi questo dialogo con l'ebraismo è particolarmente importante c'è sempre stato all'interno del SAE chiaramente soprattutto negli ultimi anni si è sentita anche l'esigenza di aprire il dialogo anche alle altre presenze appunto i musulmani in particolare e proprio con lei richiamava quest'anno in cui si è parlato di etica sociale vorrei per esempio ricordare un bellissimo gruppo di studio che c'è stato su donne, diritti e culture con una presenza luterana ma anche poi dopo appunto musulmana che ha posto molta attenzione per esempio alla questione delle donne e abbiamo potuto anche scoprire situazioni insospettate liberandoci magari di tanti pregiudizi che si hanno anche sulla presenza delle donne musulmane in Italia, in Europa oggi e quindi sono momenti di incontro molto importanti ecco perché qui vorrei ribadire forse o ribadire vorrei così far presente una cosa che l'ecumenismo ecco non è solo dialogo teologico ma appunto nasce dall'incontro e tante volte paradossalmente si parla di dialogo ma non c'è l'incontro ecco l'occasione il SAE con la ricchezza io credo delle sessioni SAE è proprio la possibilità dell'incontro quindi l'incontro ecumenico, l'incontro interreligioso e sentire che sia l'altro a dire chi è ecco e raccontare la sua storia ma non piuttosto come tante volte purtroppo si fa essere noi a definire l'altro Professor Ferrario prossimo settembre dal 26 settembre si svolgerà a Firenze l'Assemblea Generale della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa lei è nel comitato che sta preparando per le chiese italiane questo evento per l'Italia assolutamente inedito quindi insomma volevo chiederle il coinvolgimento delle chiese italiane magari in particolare delle chiese valdesi e metodiste qual è, che cosa vi aspettate da questa assemblea a Firenze e quali potrebbero essere le prospettive future anche per il dialogo con la Chiesa Cattolica forse vale la pena di dire che cos'è questa comunione di chiese protestanti in Europa è in sigla CCPE e l'insieme delle chiese sono oltre 100 europee evangeliche che si riconoscono nella concordia di Leuenberg cioè che si riconoscono come chiese diverse autonome ma in piena comunione chiese cioè i membri delle quali sono accolti, accolte da tutte le altre come membri propri cioè Leuenberg come diciamo sbrigativamente cioè la CCPE è praticamente l'unico esempio reale di unità nella diversità cioè ciò di cui così spesso si parla in ambito ecumenico è realizzato in suolo evangelico sono chiese luterane riformate come la Chiesa Valdese metodiste e unite che è una specialità tedesca che adesso non sto a spiegare un po' luterane e un po' riformate pienamente in comunione cioè non è che non sono ancora unite in modo organizzativo e questo sarebbe un di meno no noi riteniamo che la piena comunione tra le Chiese possa sussistere nella diversità questo è Leuenberg e la CCPE ogni 5, 6, 7 anni dipende questa comunione di Chiese ha il suo piccolo sinodo non si può proprio dire comunque diciamo la sua assemblea la sua grande assemblea mini sinodo e quest'anno è a Firenze su invito della Chiesa Valdese Unione delle Chiese Valdese e Metodiste e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia cioè delle due chiese italiane tre se vogliamo considerare a parte i metodisti in questo caso membri di Leuenberg che cosa ne uscirà? veramente è un'assemblea almeno apparentemente abbastanza interna cioè se uno guarda i temi non è che proprio sono da brivido sono temi ecclesiastici ma il problema è appunto quello Leuenberg è accusata soprattutto come dire da altri che non ne fanno da altre Chiese che hanno una diversa visione dell'unità dice ma questa è una visione minimale dell'unità cioè praticamente non avete il Papa perché la visione non minimale è quella col Papa dal punto di vista di chi fa l'accusa e invece noi vogliamo avere una comunione reale che abbia delle conseguenze queste conseguenze vanno discusse per esempio che cosa vuol dire che le decisioni dottrinali sono comuni vuol dire ad esempio che nessuna Chiesa neanche il Sinodo Valdese dovrebbe decidere a capocchia senza sentire le altre Chiese perché la Chiesa non finisce a torre pellice capito? è più grande cioè la Chiesa Evangelica è cattolica credo la Chiesa Evangelica è cattolica cattolica cioè universale in comunione questo vorrebbe essere l'Assemblea di Firenze che cosa ne uscirà per i rapporti con il Cattolicesimo Romano? non lo so un dialogo è previsto anzi una consultazione che è qualcosa nel gergo raffinatissimo dell'ecumenismo professionale la consultazione è qualcosa di meno del dialogo ci si consulta poi si vede cioè è assolutamente non vincolante diciamo una cosa amichevole ok che è sempre meglio che una cosa inimichevole comunque quindi ci sarà questa consultazione a Vienna in febbraio e va bene e il comunicato dirà che ci siamo incontrati e che vediamo grandi possibilità di proseguire nel cammino che richiede ulteriori approfondimenti questo è per i giornalisti presenti un'anticipazione cioè sette mesi prima vi dico già il comunicato sì professor Ferrario lei farà parte di questa delegazione della CCPE che farà la consultazione con la delegazione vaticana presieduta dal cardinale Kurt Koch dunque sì consultazione però è vero anche che da tanti anni magari si diceva che la Chiesa Cattolica privilegiava il rapporto con le Chiese ortodosse e adesso novità degli ultimi anni invece con le Chiese Pentecostali o Evangelicali su una base soprattutto di tipo etico e bioetico oppure anche morale delle impostazioni delle tradizioni familiari ecco è un segnale la vostra la vostra prossima consultazione rispetto a questa triangolatura del dialogo sinceramente credo di no cioè io credo che il dialogo così come lei l'ha descritto corrisponde a criteri un po' teologico religiosi un po' anche proprio geopolitici cioè è la grande politica estera del Vaticano che guarda ai rapporti di forza là dove sono allocati per cui l'ortodossia e l'oriente europeo e i rispettivi regimi perché sovente si tratta di regimi politici il mondo evangelicale è il terzo mondo e il protestantesimo è il 17 13% mi pare dal punto di vista statistico in Europa e secondo le prognosi destinato a contare sempre meno però naturalmente ha una sua tradizione e ha una tradizione teologica che viene comunque riconosciuta non si può dire ma insomma che viene comunque di cui si prende coscienza e benissimo facciamo il dialogo teologico ma io credo che bisogna distinguere i piani questa è una cosa importante che verrà fatta a cui io sono contento che ci sia e anche contento di poterci partecipare non tanto per il contributo ma che posso dare ma perché sono sicuro di imparare moltissimo è sempre così in genere in queste cose si impara tanto però non è che mi faccia illusioni cioè i grandi scenari diciamo dell'ecumenismo politico quello che conta e dove batte il cuore dei gerarchi ecclesiastici sono altri questo secondo me bisogna dirlo con molta serenità forse passiamo allora dai vertici alla base e volevo sì volevo chiedere rapidamente invece alla presidente del SAE il vostro è tipicamente un ecumenismo di base ecumenismo di base lei diceva nel suo intervento prima all'aula sinodale che uno degli scopi del SAE è anche quello di contrastare le rinascito le derive identitarie che cosa intende per questo e quali sono le modalità con le quali si può contrastare le derive identitarie ecco io penso che vorrei partire da quello che vorrei chiamare una sapienza forse soprattutto buddista che ci richiama il fatto che la realtà è quella che è quindi oggi bisogna anche prendere atto da questo punto di vista sono anche d'accordo con quanto ha detto il professor Ferrario prima la situazione a livello dei vertici è quella che è e a livello di base anche è quella che è possiamo fare delle analisi sociologiche anche accurate per domandarci come mai sia arrivato questo però sta di fatto che molto spesso si può assistere credo che questo sia un problema a livello di Chiesa Cattolica ma forse non solo a livello di tanti come dire tipi di identità in cui c'è la necessità di riaffermare la propria identità come unica come chiusura rispetto agli altri ecco purtroppo questa è una situazione reale di cui che dobbiamo saper vedere ecco che non e a cui dobbiamo cercare appunto di opporci opporci come ecco io qua mi vorrei cioè mi riferisco alle rivendicazioni come le rivendicazioni identitarie in ambito per esempio cattolico ecco non possiamo dimenticare e questo credo che sia anche un po' il ruolo del SAI che deve io parlavo prima anche di una funzione critica del SAI rispetto alle proprie Chiese perché SAI è e vuole essere a servizio delle Chiese non in opposizione alla Chiesa quindi però con una funzione critica ecco allora di fronte a rivendicazioni identitarie per esempio adesso io parlo da cattolica in questo momento perché la Chiesa che conosco meglio ecco per quello che riguarda l'identità cattolica di cui si sente parlare molto troppo ecco richiamare che la prima identità è quella cristiana e qua possono venirci incontro anche il documento di Dom penso per la conversione delle Chiese ecco il movimento ecumenico ha alla sua base un desiderio di conversione a Cristo quindi la conversione potremmo dire un po' un leitmotiv un leitmotiv allora questa conversione deve passare a un relativizzare sì ecco a un valorizzare da un certo punto di vista l'identità ma anche a un saperla relativizzare ecco questo è un punto su cui credo che sai con la sua testimonianza in qualche modo con la parola quando è necessario dove si può ecco agendo a livello anche di comunità perché forse oggi bisogna lavorare molto come dire per contagio cercando di inserirsi anche nelle piccole realtà locali nei movimenti dove a volte non ci sono certe attenzioni certe ecco qui credo che sia un po' il campo di lavoro oggi e penso che l'ecomunismo di base è un ecomunismo di base che deve essere formato che deve essere consapevole appunto ecco ma che vive nel quotidiano ecco deve essere molto attento per non lasciare come dire scappare no anche sia affermazioni ecco che mancano di rispetto magari dell'altro o che cercano e naturalmente ecco il lavoro per la conversione è quello che dobbiamo tenere presente richiamare sempre come dire il nostro cammino è verso Cristo senza dimenticare la nostra e questo credo che valga appunto a maggior ragione vale per la Chiesa Cattolica vale per la Chiesa Valdese cioè non vogliamo mettere da parte ci mancherebbe altro la nostra identità anche confessionale ma non può essere messa al primo posto perché c'è quella cristiana prima siamo di Cristo prima di tutto e quindi qua vorrei dire voi avete questa bella che purtroppo non si può applicare a essere Chiesa insieme certo purtroppo non lo possiamo dire tra cattolici e protestanti però possiamo essere cristiani insieme questo sì Letizia Domassone possiamo essere cristiani insieme certamente possiamo essere cristiani insieme e se condivido assolutamente che una delle parole quella forse più importante dell'ecumenismo è la conversione a Cristo un'altra che mi sembra anche la parola della metodologia dell'ecumenismo è pluralità per cui per esempio questa mattina il presidente della Seva della comunità di azione apostolica chiese francofone nel mondo ci ha ricordato che noi siamo gemellati in qualche modo con la chiesa battista del Camerun e questo ci mette in un dialogo con un altro rispetto a noi un'altra chiesa ed è una metodologia ci riconosciamo siamo entrambi evangelici chiese evangeliche ma abbiamo bisogno di fare comunque dei cammini in cui lasciamo cadere la nostra immagine di noi stessi e dell'altro per incontrarci su un terreno terzo che ci darà una nuova identità nel cammino e mi sembra che oggi tanto più dopo l'epoca delle grandi assemblee europee diventa sempre più evidente che alcuni alcune discriminanti alcuni criteri che tagliano il nostro modo di essere cristiani stanno dentro le famiglie ma anche il nostro modo di essere di fronte a Dio cioè adesso stavo pensando a tutto il dibattito che c'è in Tunisia sull'inserimento di questa parola la donna complementare all'uomo è una vicenda che riguarda l'Islam ma mi sembra che ci fa risuonare ben bene delle parole che sono state dette anche in modo sovrabbondante anche nel mondo cristiano e in particolare in molti documenti cattolici vaticani che sono tuttora attivi quindi questi temi il tema delle donne i temi etici di inizio e fine della vita il rapporto con lo Stato la laicità la libertà religiosa sono tutti temi che in qualche modo sono una discriminante all'interno delle diverse famiglie religiose anche nell'ebraismo potremmo trovare delle divisioni delle discussioni intorno a questi temi cioè non esistono identità monolitiche ma esiste una pluralità di modi di essere che passa attraverso la nostra umanità ma passa attraverso quelli che sono i temi forti infuocati che stanno al centro del nostro essere società nel mondo d'oggi un altro tema naturalmente sarebbe la questione dell'ingiustizia e della povertà e della di tutta la lotta contro una società di consumi insomma di questi temi che non sono soltanto nel campo etico ma che riguardano proprio la nostra fede la nostra teologia i fondamenti della nostra teologia questi sono i temi che oggi creano discriminazione creano il discrimine tra l'essere in dialogo e il non esserlo e quindi un'identità chiusa o un'identità aperta lasciamo allora qui concludiamo allora qui la nostra conferenza stampa e io ringrazio moltissimo i tre che sono intervenuti il sinodo va avanti domani parlerà di un tema interessante che è quello delle famiglie o dei nuovi modelli di famiglia per cui sicuramente ci occuperemo anche di questo tema io ringrazio in particolare anche gli ascoltatori di Radio Beckwith e di Voce della Speranza e di Voce della Speranza